venerdì 2 giugno del 2023 buongiorno ragazzi buongiorno a tutti voi oggi non appaio in video perché ho passato una nottata per niente per niente buona quindi può capitare quindi pensiamo a noi partiamo quindi con la nostra sigla ben trovati ragazzi prima di cominciare con questa nostra chiacchierata vi ricordo subito di prestare attenzione a ciò che trovate in descrizione ad ogni nostro video lo dico sempre così come vi ricordo e ci tengo io in primis a ringraziare il nostro sponsor ristorante la palazzina la cui locandina state per vedere adesso in sovraimpressione fatemi anche ricordarvi come diventare follower del nostro blog un blog che mai come l'estate sarà attivo di notizie quindi insomma è importante che ne facciate parte in maniera attiva perché sapete con quanto è importanza do al socializzare no e soprattutto rapportarci e scambiare opinioni tra di noi allora ragazzi è notizia di ieri del l'accordo raggiunto con pedro per il rinnovo di un ulteriore anno un ulteriore anno di contratto vi devo dire la mia sono sincero ragazzi sapete sapete com'è la storia la lazio già ha avuto un momento di riflessione nella persona di sarri a cavallo tra febbraio e marzo in merito a questo calciatore per poi giungere alla conclusione che poteva essere ancora utile alla causa nonostante l'età pedro ha preso un momento di riflessione e a marzo era molto più propenso a mollare e tornarsene a casa anche un pochino contrariato dal poco utilizzo avuto all'interno della lazio in questa stagione però pedro è persona intelligente ha fatto passare il tempo si è sbollentato ha fatto passare quella delusione mista rabbia della prima fase per poi ragionarci su e arrivare a capire da solo che questo è il suo ruolo all'interno della lazio per un discorso che dipende dall'età in primis per un discorso che per l'oggi caticose lo porta a perdere posizioni all'interno della scala gerarchica degli attaccanti della lazio perché quest'anno a zaccagni e felipe anderson non gli si può rimproverare assolutamente nulla e pedro è consapevole del fatto che in questa ipotetica scala gerarchica viene assolutamente dopo questi due calciatori però l'esperienza di pedro è cosa importante soprattutto se magari all'interno dello scacchiere offensivo della lazio andranno inseriti ulteriori elementi magari alcuni di essi giovani che hanno bisogno di poter attingere dall'esperienza enorme gigantesca di un campione vi ricordiamo ve lo ricordo ancora per chi forse perché forse a qualcuno sfugge il fatto che pedro è il calciatore che in serie ha vinto più di tutti cioè in carriera tra i giocatori che giocano attualmente in serie a è colui che ha vinto più di tutti ecco proprio in questa ottica pedro dopo tanti confronti con sarri e ancora una volta viene fuori anche da questo discorso da questo contesto la centralità di sarri pedro ha capito che può avere un ruolo ancora importante un ruolo sotto altra forma oltre che quello di subentrare di giocare quei 20 minuti 15 minuti a partita per far rifiatare i compagni e quindi bene così se va bene a sarri lo sapete perfettamente va bene pure a me perché questa è la mia la mia legge è questa io ho deciso da laziale di affidare la lazio a sarri e mi fido di sarri quindi tutto ciò che a lui va bene va bene pure a me e questo va bene quindi bene pedro sarà ufficializzato nei prossimi giorni ok così però il mio parere personale è che forse doveva aggiungere al capolinea l'avventura di pedro alla lazio devo dire la verità parere mio personale ci tengo subito a specificarlo perché secondo me questa stagione ha dato segnali importanti soprattutto nel fisico di pedro che era arrivato il momento di rallentare in maniera importante il ritmo della sua carriera se lo dice ripeto sarri lo ha visto tutte le settimane tutti i giorni in allenamento quindi figuratevi la mia sono una semplicissima impressione esterna però vi dico la verità pedro io avrei fermato qui l'avventura di pedro alla lazio e avrei preso un altro calciatore importante vi dico la sincera verità questo secondo me va a precludere un'eventualità di candreva ok secondo me questa permanenza di pedro fa decadere il discorso di cui vi ho parlato nel corso di questa settimana nel senso che non credo a queste condizioni che la lazio e sarri nello specifico vadano a correre il rischio di mettere due giocatori ultra 30 anni ultra 35 anni in un in una rosa di attaccanti di cinque giocatori quindi sarebbe troppo rischioso quindi secondo me con ormai l'ormai ufficialità di pedro alla lazio secondo me decade l'opzione estrema di cui avevo parlato opzione estrema perché come al solito tanti hanno commentato quel video senza vederlo ma lasciamo sta decade quindi candreva alla lazio quindi questo è il mio pensiero ecco evidentemente la lazio non ha in mente a parte il vice immobile che lo dò proprio per scontato perché non accetto compromessi sotto in questo investimento non ha in programma di investire ulteriormente sugli esterni ecco eventualmente andrà a prendere un giovanotto di buon avvenire sul quale lavorare in prospettiva futura si punta pesante su zaccagni felipe anderson alternati a pedro che li farà rifiatare e un altro attaccante a dargli supporto che cresce alle loro spalle dando per scontata la bocciatura di cancellieri perché queste sono le indicazioni che mi arrivano cancellieri ragazzi probabilmente potrebbe andare in prestito o addirittura essere inserito in altri in altre trattative la mia speranza ve lo dico subito senza fare troppa diplomazia è che non ci sia nulla di vero in merito a un inserimento di cancellieri nell'ottica di acquistare berardi perché berardi secondo me ha fatto il suo tempo questo è il mio punto di vista la lazio deve investire pesantemente per quanto riguarda la zona d'attacco e qui lo ribadisco sul vice immobile lo chiamo vice ma per me può essere tranquillamente anche un titolare ve lo dico sinceramente può essere anche un titolare con questo ragazzi mi fermo qui come al solito ditemi la vostra nei commenti vi mando un abbraccio forte e come sempre forza lazio a tutti